L'Occhio Conoscenza, nipote di natura e parente di Dio. Solo tu sei riuscito a rappresentare i sentimenti umani come raffigurazione del mistero divino. E il tuo infinito desiderio di conoscenza si fa vivo. Questa è la tua mente, la mente di un genio. La mente di Leonardo da Vinci. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!